Mister Foschi, una vittoria importantissima nel derby, poi il rinnovo del contratto, prossimo appuntamento qui al Benelli contro l'Albino Leffe. Sappiamo di dover affrontare una squadra che in questo momento tra l'altro ha fatto, nelle ultime 6 partite, ha fatto 13 punti, quindi è un momento che sta bene, che vuole tirarsi fuori da sotto, ma allo stesso tempo dall'altra parte trova una squadra piena di entusiasmo che ha voglia di continuare a stupire. Rush finale per raggiungere i play-off, cosa dovrà avere in più Ravenna per raggiungere questo importante traguardo? Intanto deve recuperare i tanti infortunati perché continuiamo ad avere tantissimi ragazzi fuori per problemi fisici, a loro si aggiungeranno i due nazionali che non possiamo utilizzare domenica, quindi domenica siamo proprio al minimo storico numericamente, però deve sicuramente riuscire a mantenere una condizione fisica ottimale per cercare di arrivare alla fine in salute e non arrivarci magari con l'acqua alla gola. Questo è il nostro obiettivo e quello sul quale stiamo lavorando insieme al mio staff.